Si amplia il bacino di territori posti in zona rossa nella regione Marche. Da sabato infatti, oltre la provincia anconetana, anche quella maceratese sarà inserita nella fascia di rischio più alta. A comunicarlo è stato lo stesso governatore Francesco Acquaroli attraverso la sua pagina Facebook, anticipando la notizia della decisione presa e annunciando la firma della nuova ordinanza nella mattinata odierna. Le misure, ha precisato il presidente, sono state valutate insieme al Servizio Sanità della Regione, considerando anche le regole introdotte dal nuovo DPCM, che entrerà in vigore sempre nella giornata di sabato. L'inserimento in zona rossa delle due province marchigiane prevede, tra le altre misure, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado, con il ritorno della didattica a distanza al 100%. Sempre secondo la nuova ordinanza, il comparto scolastico subirà ulteriori restrizioni modifiche anche per le altre province della Regione, compresa quella di Pesaro-Urbino. Da sabato e fino al prossimo 14 marzo, la misura della didattica a distanza sarà in vigore, oltre che per gli istituti superiori della città e per le università, anche per le scuole medie, le cui lezioni fino ad oggi si sono svolte in presenza. Rimarrà garantita la possibilità di svolgere le classi in presenza per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, oltre che per le attività laboratoriali. Il Governatore ha parlato di decisioni assunte non a cuor leggero, ma motivate da analisi tecniche e dall'osservazione dei dati epidemiologici che hanno reso indispensabili gli interventi messi in atto per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini marchigiani, per la tenuta delle strutture sanitarie e per scongiurare il verificarsi di scenari peggiori.